Sono Stefano Mariotti dell'Osteria Caffè del Popolano di San Casciano, oggi vi presentiamo le animelle alle mandorle. Per questo piatto servono animelle di vitello, mandorle, uovo, farina, sale, pepe, un pochino di burro, olio e vinsanto. Prendiamo le animelle precedentemente sbianchite in acqua bollente e poi spellate dalla loro pellolina, le saliamo e le pepiamo leggermente. Le infariniamo in farina doppio zero e le passiamo in un uovo sbattuto. Dopo l'uovo le passiamo nelle mandorle pelate e tagliate a scaglie. Adesso sono pronte per la cottura. Mettiamo un po' di olio in una pavella, facciamo scaldare e ci adagiamo le animelle. Le facciamo dorare da entrambe le parti. Una volta dorate le portiamo in una teglia da forno per completare la cottura nel forno una decina di minuti. Ripariamo adesso la riduzione di vinsanto per accompagnare le nostre animelle. Nella stessa padella versiamo il vinsanto. E ci adagiamo una noce di burro. Trascorsi dieci minuti nel forno ben caldo, le nostre animelle sono pronte e le possiamo impiattare. Le facciamo nel piatto e le accompagniamo con la nostra salsa di vinsanto. Un clicco di pepe per finire. E buon appetito!